Amaro, ritorno di Castori a Carpi, Jelenic lo pulisce con una doppietta, la prima gualla su Assis Inzola il secondo dopo questa azione insistita di Mbakogo, già 2-0 nel primo tempo per il Carpi sulla Cesena doppietta di Jelenic, la prima in Serie B la reazione della Cesena arriva solo nel finale, autorete di Brosco, Carpi batte Cesena, 2-0